Ciao a tutti e bentrovati con una nuova ricetta! Anche quest'anno non poteva mancare il dolce di San Valentino e questa volta si tratta di una ricetta davvero velocissima! Vi mostro infatti come realizzare delle sfogliette di mele con zucchero e cannella, un pensiero perfetto da gustare insieme alle vostre metà il giorno di San Valentino. Per questo dolce ho utilizzato la sfoglia rettangolare già pronta e da questa sono andata a ricavare dei quadratini tra i 6 e gli 8 centimetri. Ho poi tagliato la mela in fettine sottili e se avete un coltello che taglia meglio del mio farete sicuramente meno fatica. Da queste fettine ho ricavato tanti piccoli cuori utilizzando una formina per biscotti. Ho bucherellato la sfoglia per permetterle una migliore cottura ed ho posizionato al centro di ogni quadratino due cuoricini di mela. Ho quindi trasferito le sfogliette sulla teglia e le ho spolverate di zucchero e di cannella. Le ho messe in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Una volta dorate le ho spostate in un piatto ed ho continuato così per tutte le altre infornate. Ed ecco finite le nostre sfogliette di San Valentino, pronte per essere gustate in due. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto con like e commenti e se ancora non l'avete fatto ricordate di iscrivervi al canale. Io vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video!